fare attività di movimento all'aperto giocando è il dono più benefico che possiamo fare i nostri bambini e ai nostri ragazzi per risvegliare il corpo e la mente l'attività motori all'aperto consente di sviluppare le capacità motorie di base di forza di coordinazione di equilibrio ma consente anche di attivare tutti i sensi e di contribuire a un sano sviluppo nel corpo e nella mente dei nostri bambini e ragazzi nel prossimo webinar giochi di movimento all'aperto vedremo attività da mettere subito in pratica con i bambini della scuola dell'infanzia primaria con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado giochi da fare sia corpo libero utilizzando piccoli attrezzi come palle e cerchi ma anche lasciandoci ispirare dalla natura ti aspetto al prossimo webinar giochi di movimento all'aperto